Dopo una prima riunione della Commissione Consiliare Mobilità per fare il punto sullo stato dei lavori del parcheggio sotterraneo in Piazza Garibaldi, questa mattina si è tenuto un sopralluogo nell'area di cantiere dove Grandi Stazioni sta effettuando gli interventi. La zona di copertura dovrebbe essere completata, come già affermato dall'ingegnere Walter Capone nel corso dell'incontro, entro maggio 2017. Toccherà poi all'amministrazione provvedere alla sistemazione degli arredi. I lavori consistono nel quasi raggiungimento totale del fondo scavo in Piazza Garibaldi, attività che ha comportato il superamento di alcune difficoltà incontrate in corso d'opera relativi al ritrovamento di alcune mura della vecchia stazione ottocentesca che hanno implicato una richiesta alla sovraintendenza, ottenuto il rilascio alla demolizione, così come alcune interferenze derivanti dalla presenza di alcuni sottoservizi, quindi dei vari cunicoli che contenevano alimentazioni elettriche, dell'illuminazione pubblica, della telefonia, che passavano proprio sotto l'impronta dello scavo. Però queste attività sono state superate. Abbiamo poi incontrato nella fase di raggiungimento del fondo scavo una presenza insistente della falda, di cui conoscevamo l'esistenza, ma non potevamo per rilievi fatti in anteprima avere la capacità di insistenza. Per cui abbiamo adottato delle misure provvisionali nel rispetto poi di tutte quelle che sono i fabbricati circostanti. I lavori procedono in completa sicurezza e con l'adozione di misure alternative. Presenti al sopralluogo il presidente della commissione Gaetano Simeone, i consiglieri Fulvio Frezza, Mario Coppeto, Agnello Esposito ed i tecnici del comune che seguono il progetto di riqualificazione della piazza. Siamo riusciti a vedere cosa stessero facendo in questo benedetto cantiere. Abbiamo preso atto che i lavori ci sono, stanno procedendo senza ritardi. La cosa sulla quale noi ci teniamo come amministrazione e come commissione è che i signori di grandi stazioni e anche la ditta che sta facendo questi lavori devono sapere che devono restituire la piazza alla città. Basta, il tempo è passato. Ci sono le condizioni per restituire questa parte di piazza alla città. Mi auguro che le cose avvengano nei tempi brevi. Da questa fase in poi dovremmo camminare spediti con l'obiettivo di raggiungere la restituzione della copertura entro maggio del 2017. Il parcheggio, interrato su due livelli, avrà una capienza di circa 380 posti auto e dovrebbe aprire alla cittadinanza per l'estate prossima.